Ciao a tutti, io sono Drain E io sono Sorro Bentornati, mascherati e mascherate in questo nuovo video di Brawl Stars Aspetta che non voglio usare il vecchio pazzo, non mi piace Non mistrattare il vecchio pazzo, perché abbiamo visto ormai che è fatto apposta per chi vuole giocare in modo cattivo Sappiamo che chi gioca a Dynamite nella vita reale è un pazzo sociopatico Sì, una persona frustrata che deve giocare di prediction e che ci ha fatto sì, diciamo frustrata perché ci ha ucciso un sacco di volte l'ultima volta Un misto fra dei satanisti e delle persone molto caute Sì, cosa? Perché stanno sempre indietro e fanno uaah, bombe Hai una strana concezione delle persone caute, però va bene, cerchiamo di rubarmi No, le casse sono mie Sì, non so se avete capito il concetto, cioè no, 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 le casse non sono due, non saranno mai, dove credi di andare? Allora, io ho messo il mortaio, vediamo quanto casino combina Di solito io non ci prendo mai nessuno, no, voi non avete, continuate a sottovalutare la potenza della mia piantina La mia piantina Vi spacca di botte Viene innaffiata a steroidi e cocaina tutti i giorni, cioè Non ha bisogno della clorofilla Sì, la leggenda vuole che se tu innaffi una piantina con steroidi e cocaina che fa anche rima e quella non muore Diventa tipo la super pianta, roba che Poison Ivy sposta Oh, l'ho preso, l'ho preso, l'ho visto Madonna Perché a te le cose vanno? Eh, l'ho presa un'altra volta Questo gioco ti vuole un sacco bene Va bene, va bene Questo trick lo terrò a mente per le prossime volte Conta, ci ho preso pure Tara, presa pure lei Dove credi? No, sono io l'unica Rosanna professoressa di scienze Cosa avevamo? Sì, comunque il mortaio questa partita Ha fatto tipo 4 kill Era lui il giocatore, il miglior giocatore Cioè tipo, hai presente quando esce il miglior giocatore E c'è il mortaio tutto soddisfatto che fa Haha, sono bravissimo io Sono il vero carry Bene, possiamo Io ho una combinazione di missioni tale Che se mi impegno abbastanza Riesco a fare tipo una cifra incalcolabile di gettoni Ok, allora facciamolo Sono a tanto così dallo sbloccare il Brawl Pass gratuitamente E dato che siamo dei pezzentoni I pezzentacci Saremmo molto soddisfatti Almeno io, poi tu sono a fare i tuoi No, vabbè, chalet, sto bene così come sto Ho 100 gemme e non avrò mai il pass Ah, già Già lo sento, gelindo In questo caso, per esempio, avrei potuto spingere via questo piccione Questo indianino Sei la mascotte uscita storta degli Stati Uniti Fatti sotto se hai il coraggio, vieni Ti spago Guarda come si tiene a distanza la checchina Arrivo Sparami Uomo caramella robotico Ah, non puoi Aspetta che faccio il fettamburger Tu sei cosciente che Stecca spara caramelle, vero? Sì Era giusto per ribadire il concetto Casotto Ce penso io Veririum tremens Ok, no Ok, morto Cosa, scusate Latinorum Uccidila Oh no Oh no Mi hai salvato la mina Uccidila E ironia vuole che fosse Chi era? Era la cosa? Quella che piotta Quella Gas, gas, gas Maxine Maxine Anche nota Per gli amici Come initial d Va bene Oh Stiamo messi da Oh Benossimo Dove credi di andare? Oh Oh lo scudo Oh Oh Bene No Lo scudo di rosa è un salvavita Questa coppia funziona Perché la gente fa Adesso ammazziamo rosa E poi ce la prendiamo con la bimba Si mettono in fila E loro crepano Sì perché Io non capisco se il danno di Penny Quando va su più persone Subisce tipo un incremento Non so se è un incremento o un piccolo nerf No nerf di che Ma come fa a subire un nerf Se quando colpisce la gente dietro Ha momenti lasciotti No conta La parte divertente di sto duo È che siamo io Te La piantina E il mio mortaio E allora non è un duo La parte divertente di questo duo È che siamo io Te Adesso la persona non c'è Ragazzi sono così felici Di avere voi quattro Io Te Mia nonna Mia mamma E me Ma non sai contare No No Stecca Guarda come Ti stecco la vita Ok no volevo fare il figo E schivare tutto quanto di un pelo E invece t'ha preso Perché se stai in un cespuglio E schivi tutto quanto per un pelo La gente poi si fa venire complessi Dice ma Si dicono Oh no è fortissimo No no ma è davvero lì O io me lo sto immaginando Panino con Colt Panino con Tu sei No vabbè non ho parole No Bull Eh vabbè Bull è diventato Gesù Ha deciso che può camminare sull'acqua Colt è sopravvissuto con una Niente di vita Eh si rimedia Facciamo la simpatica manovra Crepa Villano Al mio paese si chiamava Manovra Atenaia Non me l'aspettavo La tua sciocca La tua incapacità di gestire i problemi Mi ha fatto ricevere un'ammazzata in testa Bacca bestia Sono diventato demente Sono roso Sono roso Mi piaccino le pionte Quando ti danno un'ammazzata bibbia Mi hai dato un'ammazzata così forte Che ho cambiato sesso Così all'improvviso Allora io ho visto questi Guarda che adesso scendono sicuro No non ci frega niente Dai venite Vente più con le cose Dove fuggi Madonna Lo vedi? Il trucco è farli imboscare In un piccolo corridoio Perché se si imboscano Ce le piano E ce crepano Sì ed è la soddisfazione più grande Vai Allora in basso a sinistra C'è gente che sta prendendo le casse Adesso moriranno Guarda come crede che io sia andato verso MZ Vai 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 No perché? È perché mi shottava se continuavo C'è una grave carenza di palle in questo gioco Io crepavo Ma no ma chi se ne frega È bello avere le palle se poi muoio Ti ammasso Allora la strategia Cicciona La strategia deve essere subordinata A un po' di sana spericolatezza Ah dici io sono pazzo Ma anche le palle crepa No no ti preoccupare Mommi c'è vicino Lei dirà Aha lo posso cassare Ma posso uscire E invece si prenderà un sacco di gazzotti Ho visto queste sono le palle Le palle nel cervello Ma perché? Perché il tuo mortaio prende sempre tutti Perché è fortissimo Scusa tu dovevi prenderla da sopra No no perché c'è altra gente Non si preoccupi Non si preoccupi signore Ci penso io Ci penso io E spari Alla fine se ci pensi Le interazioni di Penny con gli altri brawler Sono di una violenza unica Aha E si fa esplodere Sì sì Prima fa Aha Poi ti si avvicina E ti spara un sacchetto di monete in testa È una cosa molto cura Fa male Sì cioè Se tu ci pensi Non sono in Resident Evil Mi pare che lo facessero Le monete sparate Fanno male Allora Ah sì Lei nella doppietta le mette Sì Mila Jovovich Ciao Abbiamo iniziato a storpiare le voci Perché sapevamo che stavamo vincendo Questo è il trollaggio a livello successivo Sì che dici sto perdendo Ah mi arrabbio Sto vincendo Prendi questo gioco Beccati questo grado 18 Vai Mettimi con i giocatori più forti Così mi sento triste Perché non riesco a vincere Ti ammazzo tutti Oh abbiamo fatto Io ho fatto una quantità di gem Sì di gemme Di gemme Bella sì 220 gemme È arrivato Sì così È una partita sola Ho fatto una quantità tale di gettoni Che sono Sono molto fermamente convinto Che riuscirò No non lo dico Perché sennò non succede No Daci Ogni volta che uno si augura Una cosa positiva Anche come per esempio Finire il brawl pass In tempo record Quella poi Arriva al mondo e fa Tutto Ma che per caso Avevi una speranza positiva E invece no Te la levo tutta Non accadrà Attenta la cassa Cerca di usarla Per prendere la tua penny Quella cassa è mia Tu non la puoi avere Vattene Sopravvivenza è la modalità più Oggi stiamo giocando Sola sopravvivenza Sì questo video si chiamerà Sopravvivenza No 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 Non possiamo abusare dei titoli corti Che poi diventano scontati Tanto mi sa che dovrebbe uscire d'estate questo Quindi dopo Kierkegaard Poi ci sarà Noi facciamo cose Che non sappiamo quando esco Vai Spingila nel gas Sezzi Proprio come nel 1900 Non si può dire Non si può Ragazzi Però l'avete capita La reference storica Avete capito tutti Che cosa carina Fare battute di questo tipo Oh mio god Dove credi di fuggire Ti ho visto Eccola Che cosa sei Bea No non è Bea È Jesse Conta ogni volta che vinco uno scambio con Shelly Mi sento troppo soddisfatto Si dice Si perché vuol dire che hai battuto il brawler più rotto di tutti Ecco è stato uno scontro poco sensato Il tuo sacrificio non verrà di mente Poccio 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 Te spacco la chitarra influente Si Coco Facciamoci a capire Dai Basta Staccio Ho 14 pacchetti Pure te Sopporta Bella la skin Taglia corto Taglia corto No 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 Non ne ho bisogno Non so perché Ma sul lungo periodo Cosa qua Rosa È più veloce La people crepa No no Perché lei Te raggiunge È tipo lo squalo È inesorabile Materia di scienze E ti morde No non è vero Botanica E muori Quando è che faranno un brawler che attacca mordendo Dai a scommessa Lo voglio subito Entro la fine dell'anno uscirà un brawler che attacca mordendo Però quanto è angosciante Facciamo un video con un sacco clickbait Nuovo brawler attacca mordendo Attacca mordendo Squalotto Guardali guardali È tipo spy Belli belli No 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 Dove vai? No nida no Dove scapi Basta È inutile resistere È inutile Abbiamo citato un film che avranno visto in due probabilmente No Bombardino Bombardino Qui non si faccia What you doing? No niente c'è l'amica C'è l'amica non si spaccia per davvero Io non sono sicuro che lei mi abbia davvero Non è stata un'idea intelligente Necessità di aiuta Ti sei imboscato in posti dove non posso arrivare Però ho fatto una kill C'è la c'è E allora non ti serve il mio aiuto C'erano cinque persone Scusi a jabroni Io ho bisogno dei tuoi pacchetti Senti The Rock Femina Sì capito Perché in realtà sì Noi abbiamo Avendo visto abbastanza YouTube Poop Su The Rock Ormai la parola jabroni La associamo a lui Jabroni Dovete cercare I TP The Rock Vi farete un sacco di risate Sì tipo Perdete un po' No Oggi la Come si dice L'inner meme è Brawler No Devi capire che No Non funziona Non puoi vincere Perché noi Ciao Bull Guarda guarda Questa è la tipica Ma dove va Cosa fa È la tipica Crepa È la tipica carica del brawler coraggioso Che poi finisce male Sì è tipo Il famoso attacco sacrificio nel film E dopo Quale film È il tipico film che fa Ragazzi Ci penso io Ah quando il protagonista si butta Sì ho capito Sacrificio eroico Con la differenza Un po' tipo Jack Sparrow Che si fa No Sono abbastanza Nel mondo C'è gente che quel film Non l'ha visto È di 15 anni fa Ho capito Ma c'è comunque gente Che si deve recuperare la saga E non sarai tu a fare spoiler Vabbè che noia Io mi batto contro gli spoiler Io non voglio gli spoiler Crepa Ciccelli belli No 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 Che cosa perché E vabbè mi ha esploso con la buba Ma perché La famosa buba La buba L'arma di Shelly si chiama L'arma di Shelly E la buba Adesso Ma perché Hai usato la buba Io sono morto Considera Sì è tipo Cosa fai Fermo Che stai laggando Ti toglierò dalla tua miseria Considera Vai Tattica Tattica mortale Crepante Non è tattica Devi solo Ok Devi soltanto E proprio letteralmente Se cicchi sul dizionario Cioè tattica migliore I Tattica I Perché cosa significa Metti i tuoi nemici In un corridoio E gli spari Ouch Questo d'ina Perché Vai sopra Ho capito Mi ha spingiuto With the bomba Ho capito Ma perché ogni tanto Ti prende questa forma Di autismo grave Che non riesci più A parlare normalmente Oddio Sono tutto bene Sto morendo Sì ho notato Dove credi di andare Ah ma fama 10 pacchetti Sì infatti ho Noi cosa stiamo facendo Sono andato tutto quanto convinto Perché ho detto Vabbè mo l'ammazzo E invece poi ho detto Hai tanti HP Mi dicevano No sì 28 Sono una cifra molto elevata Sono molto fuerte Elevata Vorrei agguantarla Oddio Fugone Testare Vabbè Ok Insalata di penni Va bene sì Abbastanza Mi è piaciuto Ti hanno preso Ti hanno tritato Sei finito Eh bella bimba Vieni qua In un metaforico Tritare i fili di proiettili E razzi Non è stato molto bello No per niente È un altro modo per dire È stato terribile Molto 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 Mi ha fatto un po' schifo Molto doloroso